Rinnovo Pensioni 2023, l'Inps ha comunicato ai pensionati di avere concluso le attività di rivalutazione che riguardano le pensioni e le prestazioni assistenziali con la circolare 135 del 22 dicembre 2022. L'Istituto di Previdenza Nazionale ha così chiarito anche le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per il prossimo anno comunicando criteri e modalità applicative della rivalutazione sia delle pensioni che delle prestazioni assistenziali e dell'impostazione dei relativi pagamenti. La circolare specifica quali sono le modifiche apportate alla rivalutazione e all'aumento del trattamento minimo. Per poter effettuare la rivalutazione si considera il cumulo periquativo che vede come un unico trattamento tutte le pensioni di cui si è titolari. Inoltre, dall'articolo 2 del decreto del 10 novembre 2022, che è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si dispone che il rinnovo delle pensioni per l'anno 2023 preveda una rivalutazione provvisoria delle prestazioni pensionistiche con una percentuale pari al più 7,3% ritoccato con aumento anche per il trattamento minimo. Rivalutazione e trattamento minimo delle pensioni sociali e degli assegni sociali, che vedranno una variazione degli importi e della rivalutazione stessa per le seguenti categorie di pensionati. Per quanto riguarda la pensione sociale, se dal 1 gennaio 2022 l'importo annuo era pari a 386,54 euro, dal 1 gennaio 2023 sarà di 414,76 euro. Per quanto riguarda l'assegno sociale, se dal 1 gennaio 2022 l'importo annuo era pari a 469,03 euro, dal 1 gennaio 2023 sarà di 503,27 euro. Sono escluse dal calcolo delle prestazioni pensionistiche, quelle a carico di assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del Fondo Clero ed Ex-Enpao, dell'indennizzo della cessione delle attività commerciali, che vengono perequate singolarmente, quelle a carattere assistenziale e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo, delle stragi di matrice terroristica e quelle che vengono rivalutate singolarmente e con propri criteri. Vengono escluse inoltre quelle di accompagnamento a pensione, che sono sottoposte ad alcune rivalutazioni durante il corso della loro durata, e quelle di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva per le quali non siano state liquidate quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico contributivo più elevato. Inoltre, per l'anno 2023, l'età di accesso alla pensione di vecchiaia all'assegno sociale sarà pari a 67 anni. Poi i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e nonché anche le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva non bancabile, con unico mandato di pagamento. Ne fa eccezione il mese di gennaio, in cui l'erogazione avverrà il secondo giorno bancabile, cioè il 3 gennaio.